La chiamata di Dio non è legata al casato, alla nobiltà, alla ricchezza di una persona, di una famiglia. È una chiamata voluta da Dio dove vede principalmente le intenzioni della persona a cui si deve rivolgere. Nella scelta di Maria è una scelta, secondo la logica umana, un po' fuori posto, perché è una fanciulla, una semplice fanciulla, avrà avuto 14 anni e Nazareth, non è che poi fosse un grande paese, delle grotte. In una di queste grotte vi era una fanciulla di 14 anni e che riceve l'annunzio dell'angelo mandato da Dio. L'umile e povera fanciulla poteva avere, come dicevo, 14 anni e ricevette l'annunzio dell'angelo. Dove e come avvenne quest'annunzio? Molti dicono non nella grotta, altri dicono proprio nella grotta, ma principalmente si orientano alle varie ipotesi vicino alla fontana, che oggi viene chiamata alla fontana della Madonna. O piuttosto è stata una ispirazione del Signore, una locuzione, Dio che gli parla nell'interno. Sono le varie ipotesi. Quello che è importante è che Dio fa una scelta, che si rivolge a questa fanciulla, che non pensava proprio di ricevere un messaggio da Dio e rimane sconvolta. Possibile mai, ma rimane attenta a quello che l'angelo gli suggerisce. Maria è chiamata a fare una scelta storica promettendo il sì. La cosa è molto bella, diventa, diciamo, la ragazza scelta dal Signore, però bisogna pure tenere presente che in quel sì vi è una nascita fuori programma che può attirare le critiche e il giudizio negativo del popolo. Perché non era una ragazza già sposata regolarmente, ma era una promessa sposa. Doveva affrontare pure la problematica dell'apostolata del suo figlio, la problematica della passione morte. Cioè, quel sì implica tutta la realtà di Gesù, Salvatore, che viene sulla terra non tanto per essere il dominatore, meglio ancora, il glorificatore, ma colui che viene a sollevare le pene del peccato prodotto da Adamo ed Eva. Quindi un sì completamente duro nella risposta. Nonostante ciò, è cosciente della propria decisione e si fida di Dio e si dona e pronuncia il suo sì. Siamo tutti chiamati alla santità. Il Signore ci invita ad essere generose come Maria nel rispondere sì a questa sua chiamata alla santità. I presbiteri dando tutti se stessi nell'apostolato come sacerdoti del Signore. Gli sposi e i genitori siano fedeli alla loro missione di paternità e maternità, alla missione di educazione, di educazione dei figli, alla prospettiva di un mondo migliore. Anche l'operaio, anche il poveretto, colui che ha bisogno, è chiamato alla santità. Tutti coalizzati in forza dell'amore per il bene comune, per il bene della società. Ogni cristiano sia portatore di Cristo. è necessario, sulla testimonianza di Padre Pio, vivere di eucaristia, impegnarsi nella preghiera personale e liturgica ed essere a servizio dei fratelli. Nei momenti di scoraggiamenti è chiaro che ci sono anche nel cammino di fede e di impegno nel cammino della santità. Però è Dio che parla, è Dio che chiama e non bisogna avere preoccupazioni perché con Dio si vince sempre.